buongiorno a tutti ragazzi io sono fabio benvenuti nel mio canale oggi siamo qui in questo breve tutorial perché volevo mostrarvi dietro suggerimento di domenico che saluto l'utilizzo di questo tool molto utile per poter creare e gestire facilmente i nostri server su sito corsa competizione vi ricordo che in descrizione troverete tutto l'occorrente quindi dato un occhio alla descrizione troverete vari link inoltre prima di cominciare voglio ricordarvi che per poter fare tutta questa procedura comunque richiede l'apertura delle porte del vostro modem router e se non sapete come fare vi invito a guardare il video precedente che ho creato molto tempo fa ormai su come aprire il server su setto corsa competizione li trovate una guida molto approfondita su come aprire le porte del vostro modem e router attraverso un procedimento che mette insieme tutta una serie di marche e modelli di modem quindi potete avere una guida molto dettagliata su come aprire correttamente le porte del vostro router detto questo iniziamo subito dovremo recarci in questo sito pixelander.de dove ci sarà possibile scaricare questo tool avremo un archivio uguale a questo e io ho estratto il già il programma allora prima di iniziare l'installazione di questo tool cosa dovremmo fare dovremo recarci sulla cartella documenti e dovremo crearci manualmente tre cartelle tra cui acc manager un acc settings e un acc server adesso cosa dovremmo fare all'interno di questa acc server dovremo copiare la cartella server che si trova dentro il percorso di installazione di assetto corsa competizione quindi come si fa possiamo entrare su steam selezionare assetto corsa competizione proprietà file locali sfoglie file locali prendiamo questa cartella server tasto destro copia e la andremo a incollare su acc server una volta fatto questo passaggio qua cosa dovremo fare possiamo procedere con l'installazione di questo tool inoltre il programma si presenta sia in tedesco che in inglese in verità questo software avrà un mix tra inglese e tedesco io per sicurezza comunque seleziono la lingua inglese e vado avanti quindi convermo tutta l'installazione e attendo che il programma venga installato completamente una volta terminata l'installazione clicchiamo sul finish e automaticamente si avvierà questo tool una volta avviato questo tool cosa dovremo fare dovremo cliccare sul tasto opzioni in questa tabella qua le principali cose da fare saranno queste dare la sponda su questo automatismo degli aggiornamenti in selezionare la lingua inglese su queste righe qua dovremmo indicare le cartelle create precedentemente nella cartella documenti qua ci richiede il settings quindi cosa facciamo? selezioniamo andiamo su documenti e prendiamo acc settings e diamo l'ok qua lui vuole l'acc server noi quello che dovremo selezionare sarà questo andare sulla cartella cc server aprire l'elenco e prendere la cartella server e gli diamo l'ok una volta fatto questo confermiamo diamo l'ok e nel frattempo c'è anche cambiato la lingua come dovremmo configurare il nostro server? molto semplice basterà cliccare sul server potrebbe dare questo errore ma non vi preoccupate non è nulla di serio una volta cliccato sul tasto server ci verrà fuori questa tabella questa tabella dove ci sarà possibile modificare tutto quello che a noi interessa per l'impostazione del nostro server ad esempio sul server setting possiamo intanto dare un nome a questa configurazione ad esempio lo andrò a chiamare simdrivers.eu prova andrò ad assegnare un nome del server nel mio caso andrò a dare un nome come simdrivers.eu le porte già sono impostate max client e max slot già sono impostate possiamo anche assegnare il set di gomme che vogliamo andare ad utilizzare ad esempio metterò 10 tutte le restrizioni per quanto riguarda il server se li vogliamo impostare dare una password al nostro server o la password dell'admin o la password per gli spettatori mod possiamo anche eventualmente utilizzare delle entry list delle BOP list e quant'altro cosa dovremmo fare? intanto diamo il save se andiamo sulla scheda event setting ci sarà possibile selezionare il circuito le condizioni della pista, le sessioni, la durata e tutte quelle informazioni che a noi tornano sicuramente utili ad esempio andrò a selezionare tra la stagione 2018 e la 2019 a mio piacimento la 2019 ci andiamo a selezionare il circuito di Zolder possiamo decidere il giro di formazione se lo vogliamo corto o in vecchio stile e in quest'altra tabella qui possiamo trovare tutte le informazioni riguardanti alle sessioni di gioco possiamo decidere se vogliamo una pratica, una qualifica e una gara possiamo anche inserire se vogliamo una pratica, due qualifiche e due gare selezionando le informazioni che noi vogliamo modificare cliccando sul tasto edit ci dà la possibilità di modificare i valori all'interno di questa tabella e comunque si presenta abbastanza personalizzabile possiamo modificare quello che riguarda la temperatura, la possibilità di pioggia e quant'altro la richiesta di pit stop, l'apertura della finestra di pit stop quindi abbiamo un ampio margine di modifica per quanto riguarda la gestione del server se andiamo su quest'altra scheda, other server setting abbiamo una funzione molto interessante cioè ci permette, dando un orario e una data, di poter aprire e chiudere automaticamente il server e secondo me questa è una funzione del tutto interessante abbiamo anche un'altra scheda server management dove ci darà varie informazioni che ci potranno sicuramente tornare utili ritornando al discorso dell'apertura server basterà cliccare sulla scheda server setting dare save confermare e cliccare sul tasto run server una volta cliccato verrà fuori una finestra simile basterà abbassare adesso entriamo su assetto corsa competizione e vediamo se il server è stato creato e funziona correttamente una volta aperto assetto corsa competizione io l'ho avviato in modalità finestra giusto per vedere che tutto funzioni correttamente basterà cliccare su multigiocatore andare su lista server inserire il nome del server sim drivers eccolo qua basterà cliccare sul tasto connetti e il server funziona ragazzi quindi abbiamo un bellissimo tool che ci permette di poter creare configurare e gestire il server di assetto corsa competizione in modo più semplice io spero che questo video vi sia utile ragazzi se avete domande non esitate a chiedere e a scrivere sotto nei commenti pollice in giù se il video vi è piaciuto pollice in giù se non vi è piaciuto noi ci rivediamo al prossimo video alla prossima live un saluto a tutti ciao ciao ciao